Ho visto Giorgia Meloni che dialogava con Elon Musk, che stava all'ONU, insomma io non la vedo tanto insicura Giorgia Meloni. Il problema di Giorgia Meloni è che si sceglie sempre gli alleati sbagliati. Guardi in Europa, si sono alleati con quelli che andavano in giro con i cartelli non un centesimo all'Italia, quando l'Italia avrebbe bisogno di investimenti comuni europei. E Elon Musk è quello sbagliato dal suo punto di vista? Elon Musk sostiene apertamente Donald Trump, che di disastri ne ha fatti già parecchi e soprattutto è quello che ha agevolato quell'attacco che c'è stato al Campidoglio americano. Quindi è una persona che mente sistematicamente, l'hanno detto dopo l'ultimo dibattito, basti solo ricordare cosa ha detto sugli immigrati che mangiano i cani e i gatti. Ognuno si sceglie i modelli che vuole, la metterei così? No.